Occorre individuare anche le responsabilità politiche. Questa è la posizione del PD, i cui consiglieri comunali sono tornati alla nave di Cascella, dove la scorsa settimana sono stati aggrediti due ragazzi che si tenevano per mano e poi due filippini con insulti razzisti. È un luogo simbolo purtroppo, perché finito sulle cronache nazionali a causa delle aggressioni di matrice omofoba e razzista che si sono verificate nella nostra città e noi oggi abbiamo reputato opportuno riunirci qui per rendere conto alla città di quello che sta succedendo. Polemiche nei giorni scorsi che hanno portato il nome di Pescara anche sulle testate nazionali. Tutto perché il Consiglio Comunale ha bocciato la proposta di costituire il comune parte civile contro il pestaggio omofobo e di sostenere la lotta alle discriminazioni. Il sindaco di Pescara Carlo Masci, che aveva invitato maggioranza e opposizione a una sintesi, ha dichiarato che procederà comunque contro gli aggressori. Masci ha annunciato di costituirsi comunque parte civile, ma è di fatto stato sfiduciato dalla sua maggioranza che ha votato contro l'ordine del giorno, che chiedeva la stessa identica cosa. È un comportamento gravissimo che ci ha fatto andare la ribalta negativamente della cronaca nazionale, facendo apparire Pescara come una città inospitale, chiusa e omofoba, quando in realtà Pescara è una città aperta, è una città solidale, lo è sempre stato e lo dimostra la prova del fatto che tanti ragazzi abbiano aiutato la coppia aggredita durante la rissa. Benché il sindaco parli di casi isolati, il PD racconti una città aperta e accogliente, sono stati diversi a Pescara i casi di aggressioni, insulti e pestaggi di stampo razzista e omofobo. Solo pochi giorni prima, infatti, due ragazze erano state cacciate dal custode di un parco pubblico perché avevano osato abbracciarsi. È necessario diffondere una cultura dell'accoglienza, della tolleranza e soprattutto delle differenze, della valorizzazione delle differenze. Un discorso culturale che un'amministrazione comunale dovrebbe portare avanti a prescindere dalle idee politiche dei propri capi partito, Salvini e Meloni, che diffondono odio sui social e ovunque da ormai anni.